Benvenuti allo Stadio Flaminio, quello che per decenni è stato un luogo simbolo per lo sport della capitale. Un gioiello firmato dall'architetto Pierluigi Nervi, incastonato tra il Maxi e l'Auditorium, che oggi versa in condizioni di totale abbandono. Adesso però la macchina per restaurare l'impianto si è iniziata a muovere. Il Campidoglio, i primi di marzo, è infatti partecipata ad un mando finanziato dalle Getty Foundation, che è pronta a sborsare risorse per il mantenimento del patrimonio architettonico moderno. In pratica, se dovesse andare a buon fine la richiesta del comune, arriverebbero i fondi per capire effettivamente a quanto ammontano e quali lavori andrebbero eseguiti. L'esito del bando fra tre mesi. Andiamo appunto verso luglio, quando sapremo se abbiamo vinto o meno questo concorso internazionale per fare uno studio dell'arte del Flaminio insieme alla famiglia Nervi e insieme alla Sapienza. Nel frattempo quello che faremo è un percorso partecipato, con comitati, associazioni, soggetti pubblici e privati, molti dei quali ci hanno già presentato dei validi progetti di riorificazione sia del Flaminio che dell'area circostante. La destinazione dell'impianto a sicura frongia resterà esclusivamente ad uso sportivo, un restauro che non modificherà l'attuale capienza di 25.000 posti e che riceverà l'ok degli eredi Nervi, titolari dei diritti d'autore. Tra le proposte avanzate c'è anche quella della Federazione Italiana di Rugby. L'idea di prendere il Flaminio interessante sarebbe come ripartire dalle nostre origini, recuperarlo è importante per Roma e per lo sport nazionale, ha detto il presidente della Federazione Alfredo Gavazzi. L'intenzione del Campidoglio è comunque quella di mantenere la proprietà dello stadio, chi ristrutturerà l'intera area però potrà gestire l'impianto in concessione.